ciao e benvenuti in questo nuovo video di motorbike days oggi siamo qui con londina e siamo a vedere uno degli acquisti più intelligenti che ho fatto nell'ultimo periodo la borsa givi impermeabile da 40 litri la borsa eccola qua l'ho scelta in colorazione nera ci sono anche diverse grafiche e come vedete è una borsa studiata per le moto però è anche una borsa adatta a tutti i giorni e questo l'ho presa soprattutto anche perché è comoda perché effettivamente non è solo legata a utilizzo motocilistico ma è anche una borsa da viaggio per tutti i giorni la caratteristica principale di questa borsa che la rende una ottima compagna di viaggio è il fatto che è completamente impermeabile e vi posso garantire l'ho testato è veramente impermeabile non c'entra una goccia d'acqua anche sotto violenti acquazzoni arriva una macchina l'impermeabilità è ovviamente garantita dal materiale perché è 100 per cento pvc e è termosaldato quindi non ci sono le cuciture che farebbero passare l'acqua nello specifico andiamo a vederla e vi parlo un po di come è strutturata la capacità interna è di 40 litri ma è facilmente adattabile perché è una borsa di quelle si chiudono al rotolo quindi avendo anche il velcro in questa zona qua è facilmente chiudibile e poi viene arrotolata in questo modo questo ci permette anche di regolare la capienza quindi anche se non è completamente piena possiamo stringerla e comunque renderla compatta la piccola pecca è che all'interno non c'è uno scompartimento ulteriore quindi va tutto buttato alla rinfusa però diciamo non è un grosso problema vediamo come chiuderla una volta arrotolata perché il sistema è molto bello infatti la chiusura è molto solida abbiamo due clip in questa zona qua per fissare il nostro rotolo abbiamo un ulteriore nastro in velcro che ci permette di fissarla qua sopra e ulteriori due clip quindi la chiusura è assolutamente salda eccolo qua ovviamente in dotazione ci sono le due maniglie per il trasporto e avete in più anche la tracolla e la tracolla viene fissata a questi anelli in plastica che sono fondamentali anche per fissare effettivamente la borsa alla moto il vantaggio di avere una borsa tipo questa ovviamente è che è adattabile a qualsiasi tipo di moto quindi che sia una sportiva piuttosto che un enduro piuttosto che una maxi enduro da viaggio in dotazione vengono forniti anche questi due elastici che sono veramente pratici che basterà agganciare sulla moto e ovviamente la chiusura è estremamente semplice un consiglio personale invece se volete avere un fissaggio più saldo è il metodo che uso io perché diciamo mi fido maggiormente ho acquistato delle cinghie apposite queste sono delle gp tracker che faccio passare all'interno degli anelli e fisso poi alla moto per aumentare la visibilità notturna ovviamente questa borsa ha le scritte che sono catari frangenti e l'altra cosa interessantissima è il prezzo perché ha un prezzo davvero concorrenziale e il rapporto qualità prezzo è indiscutibile ovviamente vi lascio il link di questa borsa qua sotto il link amazon nella descrizione per questo video direi che è tutto vi rimando anche all'articolo specifico in cui ci sono tutti i dettagli sempre sul nostro sito lo trovate anche quello in descrizione se vi è piaciuto il video vi ricordo sempre di mettere un bel like e di iscrivervi al canale che vi ricordo è gratuito e ci supportate ciao e alla prossima ciao 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 ciao